Ciao raga, come state? Ben sintonizzati su Sound Passion con Leonardo? Non so se il nome l'avrò già cambiato, tipo Leonardo Sound Passion, o se attualmente è così, comunque, ecco, per farci capire. In questo video andiamo a trattare, sostanzialmente, un audio. Un audio che è arrivato qui in radio, ma che ha bisogno assolutamente di essere analizzato e controllato, perché praticamente ha delle frequenze che non vanno bene. Quindi sicuramente chi ha registrato questo audio ha sbagliato qualche impostazione sul microfono, almeno per quanto riguarda il mio orecchio. Nel frattempo, niente, partiamo con il video. Come vedete, io lavoro su Adobe Audition e sono abituato, sono nato su questo software, quindi ormai non lo cambierò neanche se mi pagate. Anzi, io rivolrei nel mio cool edit, ma non lo potevo installare su questo baraccone. Allora, praticamente, andiamo ad ascoltare l'audio che mi è arrivato. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in Smart TV. Cioè, è cupo, è come se fosse pieno sotto, pieno di bassi, di frequenze basse, non va bene, non va bene, raga. Cioè, una cosa così in radio, a parte che non si sente quasi neanche, cioè, o dà fastidio ascoltare, perché dopo dipende anche dal tipo di processo che state facendo al vostro, come si chiama, Orban, Omni, insomma, al vostro processore finale, con un sacco di pro 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 pro. Non so, gittartaglio, non so che roba, sarò agitato. Ok, praticamente, andiamo, io almeno ce l'ho qua la mia funzione, filtri, grafiche, equalizzatore. Da questi istanti, vabbè, avevo già lavorato qualcosa, ma risettiamo tutto a zero. Ok, e qua c'è il preview. Ascoltiamo e pian piano andiamo a modificare la traccia audio. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in Smart TV. Cerca nello store del tuo televisore la app di 51 TV ed installala. I videoclip che senti in radio li vedi anche in TV. Questa è Radio 51. Il videoclip che senti in radio lo puoi vedere sulla tua Smart TV o sul tuo smartphone. I videoclip che senti in radio li puoi vedere sulla tua Smart TV o sul tuo smartphone. Ok, allora, più o meno siamo arrivati a un discorso accettabile. Accettabile, ho detto, raga. Non è il massimo trattare questi audio così, lo so. E soprattutto non è neanche il massimo ricevere degli audio così, se li commissioni, li paghi o no. Eh? Che dite voi? Comunque niente, nel frattempo, allora, ascoltiamola senza... Questa è 51. Scusate, rifaccio. Ascoltiamola senza per davvero adesso. Cioè, senza la lavorazione audio. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in Smart TV. Adesso ascoltiamola invece con la lavorazione delle dieci bande del grafico equalizzata. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in Smart TV. Cerca nello store del tuo televisore la app... Già meglio, già meglio. Adesso vedo senza registrare se riesco a fare qualcosina di meglio, eh. Cerca meglio. Ok, ok, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, sono arrivato, diciamo, a un buon risultato. Adesso lo andiamo ad ascoltare, rifacciamo il paragone, ok? Questa è 51. Eh? Senza. Questa è 51, la radio che si sente e si vede... Ok, ho confermato, come vedete, mi ha rilavorato tutta quanta la traccia audio con queste sbavature che me fan cagare. Adesso bisogna andare, ovviamente, a trattarlo in un'altra maniera, quindi a renderlo un pochettino più corposo e pieno. So che gli esperti diranno, Leo, cosa stai per fare? Sto per fare una cosa che io faccio sempre, raga, perché mi trovo strabene, me li compressa. Ho già fatto il mio preset, praticamente io utilizzo l'hard limiting come compressione. Gli do di solito un boost di 7, poi meno 2, perché praticamente me lo livella lì. Gli do l'ok e eccolo qua. Adesso lo possiamo andare ad ascoltare, effettivamente, come risultato finale. Pronti? Questa è 51, la radio che si sente e si vede in smart tv. Oh, invece andiamo a sentire come era prima, ok? Applicandogli un hard limiting. Cioè, questo vi fa capire che l'hard limiting è proprio una bestia, raga. Cioè, o state attenti anche a togliere le frequenze basse, così altrimenti ci sono di tutto uno, cosa, così. Adesso vado, eh. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in smart tv. Dire proprio che così non c'eravamo neanche. E adesso gustiamoci questo audio. Questa è 51, la radio che si sente e si vede in smart tv. Cerca nello store del tuo televisore la app di 51 TV. Ok, diciamo che abbiamo raggiunto un buon livello audio. Questo era abbastanza pericoloso, perché di solito sono più easy, sono più facili. Cioè, nel senso, magari è una questione di livellare questo. Invece, proprio, chi l'ha registrato aveva, a quanto pare, un microfono che non era settato per niente bene. Era settato, sì, ma con il buco dal c***o. Niente, se il video vi è piaciuto, raga, mi raccomando, lasciate un bel commentino, se volete saperne altro, se possiamo portare altri video di questo genere da trattare, altri, non so, altri vocal, altri bianchi che mandano gli studi. Potremmo chiamare la rubrica degli errori, no? O degli orrori. Va bene, raga, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, lasciate un commento, un mi piace, supportate il canale. Grazie.